Attenzione, non comprate le e-bike Eatway! Naturalmente vi spiego il motivo. Il mio canale si basa sull'onestà, vi porto le recensioni delle bici elettriche evidenziando i pregi e i difetti, in modo che possiate fare un acquisto consapevole, in base alle vostre esigenze. Dopo la mia esperienza e la comunicazione col marchio Eatway, posso dirvi con certezza che le loro recensioni sono tutte pilotate, ossia vengono influenzate dal marchio, che costringe il creator a creare delle recensioni solo positive, che vanno ad escludere i difetti. In sostanza, delle recensioni fasulle. Vi chiederete come faccio a saperlo? Beh, molto semplice, la trafila è sempre la stessa. Sono stato contattato da Eatway non una, ma ben tre volte. È sempre la stessa politica, a differenza di mesi, a partire dall'anno scorso. Quindi, come funziona? Beh, Eatway vi chiede di recensire un loro prodotto e fin qui nessun problema, visto che tutti i marchi ti contattano, inviano il prodotto e aspettano che tu produca un test e una recensione, basato sull'onestà. Invece, il produttore Eatway ti richiede di acquistare in anticipo uno dei loro prodotti, quindi pagando con il tuo denaro per l'acquisto, promettendo di ricevere il rimborso dopo aver rilasciato la recensione positiva e un video positivo. Naturalmente nessuno vorrà spendere del denaro per poi non vederlo tornare indietro, quindi tutte le recensioni vengono influenzate dal produttore. Infatti, la prima richiesta è quella di lasciare immediatamente una recensione positiva su Amazon, senza neanche aver testato il mezzo. Poi dovrete rilasciare un video positivo, che naturalmente va vagliato dal produttore, che naturalmente non approverà un video che contiene dei difetti, in questo caso spingendo il creator a creare un video positivo. Per questo motivo ho sempre rifiutato di testare i loro prodotti. Avrei benissimo potuto parlarne bene e prendere il mio rimborso, ma non è questo il modo di lavorare. E questo rappresenta, a parer mio, un modo davvero scorretto di fare concorrenza verso gli altri produttori, che non hanno nessun timore di mandare un modello per la prova. In sostanza state alla larga da Heatway, che sicuramente cerca di rifilarvi un bidone. Detto questo, se state cercando la vostra bici elettrica e avete bisogno di un consiglio, potete contattarmi per una consulenza gratuita, che è naturalmente riservata agli iscritti del canale. Come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!